Telefonata. Gli senti i tuoni? La cornetta Delia dall'orecchio sensibile allontana e mi mette in contatto con gli dèi. Non sento niente, ma vedo la pioggia diramarsi affannata per il vicolo, rimbalzare irritata sullo spiazzo. Parlava sempre, mi parlava sempre. Io sono dura e però mi commuovo. Il tempo è morto. Non c'è altro qui. Vogliono accomodare un po' la villa? La villa con l'oredo? Sì, ma tu, quando è che vai in pensione? Alla chiesetta? Ci abbiamo un nuovo prete, lo vedessi. Alto, bello, spagnolo. Mi piace a tutte.